Come fare il nodo alla cravatta con un colletto appuntato? I colletti appuntati sono molto stretti, quindi necessitano di cravate destrutturate e comunque molto sottili. Il nodo da prediligere sarà il tiro a quattro o addirittura il nodo orientale, detto anche nodo piccolo. Oggi con voi farò proprio l'orientale. Per farlo dobbiamo disporre al contrario, cioè con la cucitura rivolta verso l'esterno, la nostra cravatta. A questo punto serve la barretta, cioè la piccola spilla, questa specie di spilla che si infila nelle piccole asoline che troviamo sul nostro colletto. Si avvita ed ecco qua, guardate che meraviglia! Ringrazio Teodori Brothers per questa magnifica camicia con colletto appuntato e noi se vi va ci vediamo nei prossimi Real Barra Shorts.